Mi pare alcoolizzato veramente come se no tu sei uno che beve Potrebbero essere un simbolo di Roma se fossimo nell'Ottocento Oggi abbiamo le auto elettriche che tra l'altro il sindaco, abbiamo avuto un incontro con lui tre giorni fa Metterà a disposizione gratuitamente i botticellari Quindi non vogliamo togliere il lavoro, vogliamo solo che i cavalli non girino nel traffico, a trotto I cavalli che abbiamo sotto le carrozzi sono tutti trottatori, sono cavalli dismessi dalle corse del trotto Cavalli di 2-3 anni che vengono dismessi, vengono salvati dal macello e vengono a lavorare con noi Vengono, 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 vengono